benvenuti ragazzi e ragazze in questo nuovo video io sono luce cartomante carte napoletane allora vado a fare una nuova stesura la domanda di oggi mi sono usciti quattro mazzetti quattro risposte quindi come sta emotivamente la persona il mio ex o la persona con con la quale c'è stata una rottura un allontanamento che potrebbe essere in qualsiasi campo della vita quindi potrebbe essere un'amica con cui avete litigato un ex appunto con cui c'è stata una rottura andremo a chiedere adesso come sta questa persona a cui voi pensate come sta emotivamente come se la passa come sta allora intanto vi chiedo di scegliere il primo mazzetto con la polverina grigia secondo la polverina verde il terzo abbiamo la polverina color oro e il quarto mazzetto la polverina blu andrei a fare un'altra domanda allora andiamo a vedere un po cosa guarda quello che ci vogliono dire le carte perché non mi viene in mente nessuna domanda io direi vediamo un po quello che ci vogliono dire le carte in base a questi quattro mazzetti ok allora parto subito con la polverina argentata vediamo come sta emotivamente allora non bene qua mi esce una persona che comunque è una persona che si impegna anche poco nella vita di tutti i giorni vedo che non ha voglia di fare grandi cose si impegna poco emotivamente lo vedo giù di morale aspetta delle notizie quindi comunque aspetta un chiarimento aspetta un dialogo e secondo me vi spia vi osserva anche se ha la possibilità appunto di osservarvi sui social questo lo fa pensa ancora al passato quindi è una persona a cui è rimasto un po l'amaro in bocca e vedo che nella vita di tutti i giorni comunque è un po una persona svogliata questo è quello che mi esce qui aspetta assolutamente di dichiarire e di parlare con voi perché siete voi che avete guardato questa stesa vediamo un po non credo che ci sia una riappacificazione qui è come come avete visto prima abbiamo fatto i mazzetti con le carte napoletane queste qui rosse senza fare una domanda nello specifico il messaggio che mi viene qui nel primo mazzetto quindi polverina grigia è proprio che non so questa persona è come se non so se odia il suo posto di lavoro o l'ambiente proprio in cui vive qui c'è proprio un disgusto nella casa secondo me prossimamente questa persona qui assolutamente è come se se capisce vede con i suoi occhi che tra di voi è comunque finita quindi probabilmente tenterà di mandarvi un messaggio e vi penserà ancora nella sua vita quotidiana da quello che vedo io però poi capirà proprio che è finita quindi qua c'è proprio la stesa che mi termina con il vedere la rottura ok l'osservare il vedere il fatto che si deve mettere l'animo in pace perché è una situazione conclusa e finita questo è per la polverina grigia adesso andiamo a vedere con la polverina verde come sta emotivamente allora allora qui situazioni che sono concluse allora tutto sommato sta bene tutto sommato non sta male come quello del primo mazzetto c'è una persona diversa probabilmente anche più grande qua mi esce un una persona lontana comunque c'è stata una rottura e ed è convinta è una persona convinta di stare lontana da voi la vedo felice di questo silenzio di questo di questo momento di blocco di rottura quindi una persona convinta quella del mazzetto del mazzetto verde quindi non la vedo una persona che che sta soffrendo più di tanto probabilmente magari la decisione l'ha presa lui e quindi è assolutamente tranquillo rispetto a quello del primo mazzetto non lo vedo sofferente non è come se vivesse un po' una nuova fase della sua vita allora quello che mi esce qui per la polverina verde è comunque una situazione dove ci sono state parole di rabbia sinceramente era una storia probabilmente già che si sapeva dall'inizio che doveva andare così io da quel che vedo qui probabilmente nel vostro pensiero se non c'è già arriverà un'altra persona e sarà più una cosa a livello fisico quindi forse un passatempo diciamo per riprendersi un po' dalle ferite che ha lasciato questo uomo del passato potrebbe essere una conoscenza che nasce proprio come un'attrazione quindi quello che mi esce qui è che questa persona continuerà a stare in silenzio e probabilmente è meglio così perché ci sarebbero discussioni rabbia e quindi io non credo che la persona a cui avete pensato sia sia una persona che si ripresenterà a breve nella vostra vita questo non lo credo anzi appunto c'era un altro c'era un altro uomo qui c'era un'altra figura maschile vicino a voi adesso andiamo a vedere con la polverina color oro come sta emotivamente questo qui del terzo mazzetto qui di nuovo è una persona che non sta bene una persona che magari ha tanti rapporti ma tanti rapporti superficiali quindi tanti rapporti dove effettivamente comunque rimane solo è una persona che si sente parecchio parecchio sola e secondo me ha anche difficoltà comunque a interagire un po' con le persone e a creare dei legami positivi quindi vedo una persona che soffre la solitudine e che ha fatica fa fatica a rimanere in mezzo alla gente in modo positivo questo è questo è quello che mi esce appunto per la persona del terzo mazzetto allora non so qua penso che sia una situazione complicata è questa questa del terzo mazzetto non so mi arrivano delle energie un po' così tipo mi fanno pensare naturalmente io non guardo mai la salute ok mai però mi arrivano energie tipo di una persona non so depressa o che ha proprio delle 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 situazioni un po' toste nella vita un po' difficili comunque sia quello che mi esce poi qui in questo mazzetto è un è un andare avanti comunque quello che vedo qua è uno stare insieme alle persone un po' più avanti comunque è una persona che si circonda di persone estremamente negative estremamente infedeli è una una compagnia non tanto sana da quello che vedo io qui mi esce che comunque poi aspetta l'arrivo di una nuova donna o comunque intraprende un qualcosa con una nuova donna che non siete voi ripeto sono sono pesanti queste energie qui del terzo mazzetto quindi secondo me avete fatto bene a o comunque fareste bene ad allontanarvi da questa persona perché non la vedo una persona salutare non la vedo una persona positiva anzi tutt'altro quindi se comunque frequenterà poi un'altra donna un'altra persona magari per voi è anche meglio perché non ripeto non ho visto nel terzo mazzetto energie così leggere e così e così positive assolutamente no quindi purtroppo è una persona che si sente sola secondo me è una persona che purtroppo ha dei problemi e quello che mi usciva appunto per il terzo mazzetto è che comunque un pochino la sua situazione tra virgolette migliorerà perché inizierà a stare in mezzo ad altra gente anche se non la vedo gente sincera io è quella che frequenta questa persona qui e tra queste persone qui appunto incontrerà una donna o aspetta comunque si apre alla conoscenza di una di una nuova donna di una nuova frequentazione adesso vediamo per l'ultimo mazzetto il quarto come sta emotivamente questa persona allora dunque questa è una persona che secondo me ha tanti contatti con tanta gente questa qui del terzo mazzetto allora è una persona che comunque secondo me in casa è molto autoritaria diciamo sulle mura domestiche anche questa non è una persona così positiva purtroppo no però diciamo che il terzo mazzetto mi sono arrivate vibrazioni veramente tipo appunto non lo so la depressione addirittura forse anche il carcere cioè ho visto ho sentito proprio vibrazioni brutte devo dire la verità invece in questo quarto mazzetto la vedo più una persona che magari è più autoritaria quindi magari è a capo di un'azienda ed è una persona estremamente irascibile una persona se no che anche nelle mura domestiche ha questi modi di fare estremamente autoritari e deve decidere sempre lui quindi come sta è abbastanza è abbastanza prepotente autoritario in questo periodo passa il suo tempo diciamo messaggiando con più persone persone secondo me anche impegnate e sono sono passatempi diciamo che probabilmente è una persona che non è soddisfatta completamente della sua vita sia in campo comunque della casa che in campo del lavoro e quindi è una persona che secondo me è uno di quelli che si mette magari su queste chat a perdere del tempo o a passare del tempo questo è il quarto mazzetto il tipo del quarto mazzetto vediamo un po' cosa ci dice questo infatti sì come dicevo prima non è soddisfatto della sua vita odierna potrebbe sentirsi anche questo potrebbe anche essere un po' una maschera no? questo essere così autoritario così freddo qua mi esce una persona che ha proprio difficoltà a essere dolce a essere ma perché soffre quindi è una persona che nel cuore probabilmente ha della sofferenza quello che vedo io qui se è un uomo a cui avete pensato che magari vi interessa qua mi esce una persona che comunque potrebbe ritornare ad amare quindi potrebbe se in questo periodo è così freddo è così prepotente è così autoritario con fatica però potrebbe ritornare ad amare a essere felice a essere un po' una persona migliore anche se deve un attimino allontanarsi da queste chat perché qui ci sono troppe donne in mezzo quindi ha in testa troppe persone ok? questo è quello che mi è uscito ragazzi alla domanda come sta la persona come sta emotivamente naturalmente la persona a cui avete pensato ok? io vi mando un abbraccio grazie sempre e a presto luce grazie grazie grazie